ciao a tutti bentornati a little hope da me e da len ciao 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 lara ciao a tutti io saluto anche tutti i tuoi followers anch'io anch'io tanto siamo tutti una grande famiglia ormai tutti una grande famiglia ormai ci conosciamo e beviamo le birette tutti quanti insieme i caffettoni anche col piccione insomma le scatole che abbiamo fatto sul tuo canale le scatole che abbiamo rotto sul mio canale andando in giro i simulator i simulator abbiamo trovato però il lavoro della nostra vita eh sì eh sì biancospiro la biancocoso come abbiamo chiamato bianco elfo andate andate a guardare ecco elfo il video di tavern manager tavern simulator sì 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 tanta roba io sono andata avanti infatti dobbiamo dobbiamo far vedere le novità le novità e vabbè per quando vedrà il nostro video magari abbiamo già fatto il video vabbè e niente vabbè vanno indietro e se lo guardano sì sì andate guardate il lavoro della nostra vita cin cin guardate allora dove siamo rimasti costi 5 6 bambacioni non mi ricordo una bella una bella domanda vabbè l'unica cosa che mi ricordo è che nello scorso episodio praticamente sono successe due cose diverse a lei e a me perché il suo gruppo ha visto l'arresto della mi pare della signora emi che deve essere insomma è stata accusata di stregoneria mentre io ho visto il processo già della signora e questa cosa non l'ho capita però io perché secondo te secondo me secondo allora secondo me è stata accusata ingiustamente perché la bambina dice balle la bambina mary quella che è ben incontrato e l'accusata fa finta di avere le convulsioni di avere sì secondo me però poi non lo so magari c'è una spiegazione molto più originale dietro questo capolavoro ma vedrai che spiegazione una bella proprio di spessore direi di spessore me l'aspetta me l'aspetta allora adesso io devo guidare i miei studenti tra cui len e se esatto e fa andrew e e dobbiamo rimanere in gruppo quindi famose io sono prof qui con questo stocca fisso ecco bambacione grosso io invece sono questo bambacione qua bambacione piccoletto dov'hai e dovremmo allora secondo me dobbiamo guardarci un po intorno ma non ho capito perché mi spingi scusa mi stai spingi ma io boh per vedere le reazioni guarda la signora è sempre davanti è la ma questa moglie da una spinta angela dove va angela angela secondo me ma che stai a fa qui che fai che era espresso quello che pensava io me ne vado la sua opinione dove dove la va a essere fermata lì angela non lasciarla mandare qua dobbiamo andare al ponte si è rotto che non sono state attenti angela sera fermata mo sta davanti a tutti sei una cretina lascia la cadere ma hai fatto il quick time event giusto no 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 va bene ma non stai salta bordo si ma c'è cade a pezzi mai tu danni ma sei anche un po stronzo taylor comunque sarà un piacere fare strada valutiamo le nostre opzioni vada vada lei che magari muore no si tira indietro così vado io dai andrew andiamo noi vado io vado io ok vai vai andrew vai vai guarda angela come lo guarda mamma mia che faccia e anche taylor c'è pensava che adesso fa il figo il professore eh beh perché volevo che andasse avanti lei no guarda angela si secca la perdiamo la perdiamo angela guarda che questi si spostano no si separano di nuovo adesso va a finire che lei fa daniel guarda salta salta andrew guarda come sbaglio il quick time event chi è di nuovo in this year of our lord 16 192 we are a presenti per witness to adjust execution non l'esecuzione ma donna amy is to collect guilty of consortium with the devil and it's to be drowned as a witch and sorceress ma donna non l'esecuzione ma donna amy ed ecco le chiedo questo perché non ho mai è così pensano ancora di più che sei una strega che sta facendo the devil is in the wind seeking to help his own it would release sir from the chains isaac let us conclude our business is swiftly the will of the court must be imposed before it's too late the devil fortifies her you must find it tightly mamma mia you cannot do this isaac will have the court non la bruciano la non fuorgan little hope is already lost shrouded in evil but not as you claim from witchcraft or outside demons we are but not save yourself with riddles there is no riddle the devil takes many forms you know that better than any it will hope he has hid himself under a shroud of innocence take out the form of a child by infusion eh si eh while Mary still draws breath little hope remains beyond salvation tell us your evil reference be your very fit amazia la bambina allora eh scusa isaac povera signora ma povera signora ho sbattuto il pad per l'emozione sono un incidente ma povera signora mi sa che Angela fa la stessa fine si però più simile a silent hill eh non lo potevano fare sta storia eh dai Angela ma ti sembra questo il momento di fargli questa domanda che sta un bilico su un ponte che sta accadendo si te lo dico se me lo chiedi ah no lo chiede a lasciaci soli un momento abbiamo visto cosa è successo dico la verità eh si è motta è motta eh si ma che ne sappiamo non è che abbiamo risposto morirai a mezzanotte guarda 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 è il cadavere eh si e sei Angela adesso oddio adesso la faccio guarda cioè stanno a parlare infatti cioè io boh veramente e entri perché c'è sta faccia bel modo si si ah perché erano non erano tanto alti ecco perché stavano lì a parlare vai Angela ma gli altri li abbiamo persi non vengono? eh no meglio si aprono le acque oh che uitzan oh wow è Angela del passato eh mi sa quindi ce l'avrà con te adesso scusare faccio da mi ma è stata colpa ma se vai adesso mi avete fatto il colpo di dosse oh sorry vabbè ah guarda se l'hai cavato da sola cosa ti lamenti eh certo allora nella lato precedente Angela Angela era morta con me quindi ho voluto fare una cosa diversa ok ok senta signor mostro la faccia è finita basta tutta questa teatrealità ma che cos'è poi striscia cioè non è che è semplice salire eccolo poi è là ma sera cosa scrive appuntini quello che abbiamo fatto fino a ora eh purtroppo invece è dispiaciuto hai fatto tutti i quick time e infatti eh sì ci stiamo provando però ah sì cosa la doppietta ma che lei è cattivo e stronzo anche eh beh no potrebbe essere qualcosa di più originale eh quella mi piace di più mi dream was lengthened after life oh then began the tempest to my soul I passed me thought the melancholy flood with that sour fairy mare which poets write of unto the kingdom of perpetual night it's possible I suppose maybe the bus driver can shed some light this must be very confusing for you right now si doppelgangers witches ghosts death and demons what could possibly tie all of these souls together I dare say we'll find out eh speriamo se siete così provi a scrivere ah grazie tempted sì direi di sì sì allora che sì no sì 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 ma che te ridi ma io boh ma no ma non criptico ma dai sì chiaro chi eh beh certo no Hermione no io non la perdono la bambina ma 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 in te cool non ci ho capito niente con il suggerimento che ci hai dato credino infatti dice di perdonare ma non ho capito bene perdonare noi stessi forse abbiamo tutti commesso dei peccati e stiamo pagando per questi peccati me lo chiedo anch'io Angela mi sono salvato il culo da sola infatti sapevo che mi accusava ma io non voglio essere John infatti eh che fine ci tenevo a dirglielo eh no ce li siamo persi così da nulla se ne esce con Taylor e Daniel vabbè siamo in un cimitero stiamo a parlare una cosa siamo in un cimitero ecco il mostro eh ok ah io sono John ah no sono Angela no sei Angela però non avete uscito dal cimitero ma stiamo camminando signora cioè dove andiamo? dell'ode qua eh ah è vero ah guarda c'è qualcosa qua da guardare ah ok guarda vediamo che cos'è? è la tomba di your eyes eh Thomas Wyman governatore magistrato è morto nel 1701 e sua moglie Mary ah Mary Wyman eh allora Mary penso che sia che sia lei hm non so il cognome non me lo ricordo prova a guardare anche tu cosa sta guardando Andrew? qui riposa Thomas Wyman governatore magistrato deceduto il 30 luglio 1701 insieme alla moglie Mary Wyman spentasi nel febbraio 1699 eh può darsi che sono loro due eh perché i nomi quelli della visione allora qua da qua si esce? non lo so ma tu anche vedi i cespugli che sparaflesciano luce? sì 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 ma io ma io stavo lì eh non è che stavo lontano Angela c'è sempre qualcuno che ci guarda secondo me da ecco appunto eccolo uh questo qua è quello che si è impalato con le lance allora noi siamo al di là del ponte e mancano quei due ma è vero è vero eh oh ah ah ahiai no lo sapevo lo sapevo ma questo è quello è quello lì del pub è Vince questo ma non era un mostro pensavo fosse un mostro ma perché sono d'accordo ma come cammina come cammina Andrew ma no oddio tu Andrew vabbè vai qua c'è sempre il mostro adesso esce la manina ah addirittura arrivata le fogne c'era Little Hope scritto sulla sulla grata speriamo di essere insieme sì meno male dai io sono Taylor ma non che me ne freghi molto tra che sono io e infatti io rispondo sarcastica altro eh vabbè cioè ma non è che se ti lamenti tutto il tempo risolvi qualcosa Taylor trova un modo per raggiungere gli altri adesso in gruppo guardiamo ma non lo so eh vabbè che se ne frega insomma allora witch trail ok quindi è un percorso storico questo prova a guardare ma witch non è strega sì sì è probabilmente il percorso bo per vedere le streghe cose che riguardano le streghe non lo so prova tu storico di Little Hope sentiero delle streghe eh vedi beh vabbè che divertimento fare il sentiero I don't like this I want to go another way eh non c'è esatto senti non rompere i peones eh purtroppo lei parla parla da sola l'hanno fatta stupida come tutti i personaggi femminili di questi giochi perché si divertono a farli così guardi la mappa sì guarda guarda Tilly Johnson Memorial mappa di Theop la nostra città vista dall'alto ah posso guarda puoi vedere sì sì vediamo Taylor ma non è che ti devi mettere dritta eh per vedere la mappa ah ma forse avevamo già visto qualcosa sì è una qualcosa del genere prima una visione dall'alto qua c'è altro no niente niente ma io cos'ho il telefono in mano per far luce sì tu c'hai il telefono io c'ho una torcia una batteria cretina ma perché mi passi davanti ma io dico boh cos'è che ha trovato da vedere sì avvicinatevi all'acqua che è sempre una bella idea dai buttatevi che faccio da scemo se sei sicuro tu Daniel ma perché dovete andar di là ma perché va bene dai facciamo così perché sennò non la finiamo più esatto se si rompe dopo di me magari se si rompe dopo di me tu caschi di sotto ah guarda sono passata di qua senza problemi vediamo se passa anche Daniel uh aia uh ok nice attenzione attenzione io spero che vi prenda perché almeno così ci divertiamo un po' ragazzi tanto io i quick time events li sbaglio a prescindere qui c'è qualcosa vediamo cosa c'è vedi un po' e non mi non mi dà il comando aspetta no non mi ah eccolo qua eh sì più avanti di 3 minuti cioè comba di una strega si ritiene che questa lapide indichi il luogo in cui fu sepolta la prima persona giustiziata durante i processi alle streghe di Little Hope chissà se è lei se è proprio Amy si ma si si muove è John c'è il marito stanno avendo la bambina la bambina la bambina la bambina la bambina non mi non mi è che ci succedere Questo giorno ho scoperto la mia figlia Da un grado di acqua e l'ho scoperto Nella terra con le mie mani E tutto questo è perché di lei Mary Allora andiamo a picchiare la bambina Ehm Beh perché E quella assomiglia a Taylor Guarda che faccia intelligenti Ma io boh Ma Vi muovete Ma Vabbè Ma che è? Che sei andato? Un'ora e mezza Ma cos'è sta scena? È orribile Non ha senso questa scena Non ha senso proprio Adesso tu sei Angela e io sono John Ah bene Beh vorrei anche vedere Beh non è che Ve ne sia fregato molto Vino adesso Che è? La bambina Eccola Ma Ma la scaccia così È fantastico Ah Andiamo andiamo Ehm Eh però Ah tu sei Angela Sì Due donne Che ci sono Due donne che abbiamo visto Una è del passato E questa è Dice 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 È un'immagine Dice 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 Angela Levati dalla grata Forca miseria Te l'avevo detto Dice Oh mamma E niente Se è salvata prima Ma ora mi sa che Dove è? Oh Angie Aspetta No Eh ma non ho capito Che dovevo fare io Non ho capito che dovevo fare No no Sono io che sto facendo I quick time events Ma li sto sbagliando tu Oh è venuto qualcuno a salvarmi Incredibile Sono riuscita Oh wow Ok Addio Angela Ma ho fatto un quick time event anche io Angela Perchè? Eh ma forse con John l'hai fatto Che mi hai aiutato Angela Ma no figurati Se ti fa andare Angela Eh Quella cosa potrebbe essere laggiù Ma c'è Aiutami a scendere laggiù Non dico niente Non dico niente Non dico niente Eh Non possiamo aiutarla Aiutami a scendere laggiù Ormai non c'è niente da fare Ah vabbè proprio così Ah la bambina è passata La bambina porta sfiga Oh minchia Porta sfiga tantissimo Sta bambina Spinni Andrew spinni Si sta sforzando di aprire la porta Ma va biga eh John Un bambina Vero E non mi entra Andre Ah 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 Certo Ma sono Maca Se siamo fuori qui, ci sottolineiamo con gli altri. E' solo se sono ancora vivi. Tanto basta che non ci muoviamo. Qui dobbiamo spippolare il museo, leggere cose, vedere cose. Quindi non succede niente, per se rimaniamo così. E niente, io direi che comunque ci fermiamo qui per oggi, se hai capito. Eh sì. Se hai capito. E niente, riprenderemo da qui la prossima volta. Ma Angela sarà morta? No, 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 non ho idee in proposito. Io spererei di sì, però non ce l'hanno fatta vedere bene, quindi mi dispiace un po'. Non ce l'hanno fatta vedere. Quindi sicuramente nel prossimo episodio vedremo se Angela ce lascia oppure se torna nel gruppo. Però, ottima la scelta del prof di non scendere giù, ormai è spacciata. Non c'è più niente da fare. Che ci andiamo a fare? Che ci andiamo a fare là sotto? Morì pure noi, ma chi se ne frega, vero? Andiamo al museo invece, molto più interessante. Molto più interessante. Va bene. Allora, detto questo, noi vi salutiamo bellamente e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.